Si dice che Mantua sia un salotto e i Gonzaga hanno partecipato, non poco. Ed è il motivo per cui oggi studiamo e apprezziamo chi studia la figura di Ludovico Gonzaga perché è stato un uomo colto, un uomo che amava il patrimonio di sculture e di pitture che nel nascimento mantovano arricchivano la città di Mantua e quindi oggi studiare questo personaggio significa avere la volontà di proseguire nella sua strada. Io penso che Ludovico Gonzaga deve essere un personaggio che non solo deve essere studiato ma deve diventare motivo anche di attrazione verso Mantua di quegli studiosi e di quelle persone che amano l'arte. Quando abbiamo restaurato tutti questi busti appunto degli imperatori e altre cose che sono cose splendide fatte da quel buonacol si è chiamato l'antico e io ho trovato appunto dentro in queste realtà così grandi il senso di una storia di una città e quindi di una civiltà che ha attraversato la nostra città di Mantua e che ancora oggi la rende orgogliosa non solo di ciò che è passato ma di come il culto della bellezza e della bellezza artistica era anche il culto di una bellezza che era la convivenza la condivisione di una cultura che anche se non era espansa a tutto il popolo perché non c'erano le scuole, non c'erano tante cose però veniva condivisa anche da questi monumenti in cui quelli ecclesiastici come la Bibbia dei poveri la capacità di intendere tutto ciò che era stato narrato in antico e anche quelli civili, la capacità di dire che in fondo tutti appartenevano a questa civiltà tutti appartenevano a questa realtà e quella condivisione assicurava anche un po' di pace e di benessere per tutti